questa è la vera manodopera per fare queste cose fettuccine fettuccine devono avere la misura giusta un po' di farina spezza sempre con du mano mamma la mano che la giri con la mano sola mai se no te ne è in casino ecco si verso lì bene aspetta un attimo vedi la uretta comunque bene? adesso con le mani con l'altra mano pure eh la leggo con quest'altra poi dice vieni a fare voi dovresti portare l'assista al bagno ora fanno servo però poi quando si tolgo basta e io questa è venuta morbida? meno male perché quando è dura un casino lascia perdere vai vediamo sempre andare guarda che poi l'usci è aperto no adesso mi serve quel cortellino ti ricordi quello che avevi preso sempre a punta quello che taglia tanto quello rosso sta là va questo? penso che questo va bene perché non è a seguita questa questa capito ecco bravo voi ti faccio vedere aspetta vado bene perché purtroppo sta maledetta se no mi fa il casino aspetta aspetta un attimo è proprio l'inerzia tu reggemi quando mi servi per l'inizio poi non lo fai te capito poi te lo faccio per te ti faccio vedere una cosa aspetta questa è una volta che bolle l'acqua appena va giù è la scesa è una levata la messa è una levata ecco bravo hai detto bene vai questa è troppo guarda questa è troppo questa è troppo è troppo larghe lo fate è vero Giancar sono troppo larghe ora assaggio una vanno benone vanno più stretta eh un po' più tre fine sì questa è troppo larghe senti quanto è buona già vuoi di quella come se la mangia ladro tu rubi il pane non faceva le fettuccine a mia madre no? non mi ha assaggiato l'impasto delle fettuccine mamma mia mamma mia angelo mi passi qua la busta di farina dammelo fanno mia madre faceva le fettuccine faceva così no faccia tutte le facevo ti aiuto a aprirle ma lei se uno aprivo e dieci me ne mangiavo chi io? no io no io pure io può essere può fatto qualche cosa può essere quanto mi piace ma non dice può essere ma questa è tutta roba genuina e buona che volete quelle che compri per carità come si dice forza maggiore allora io metto i piatti intanto il sugo si sta facendo attenta al sugo si sta fanno attenta al sugo no nel senso ogni tanto mi cina lo guardano che sto da dire io non so che dite angelo ah no tutta lì ah già se tu te dite